Un basket a Cirale Tosto vince a Palermo contro la Green Basket per 58 a 62, agganciando gli stessi palermitani in classifica a quota 4 punti. Vittoria importante e meritata per il quintetto acese, giunta alla fine di una gara iniziata in maniera un po' bruttina, ma che col passare dei minuti si è trasformata in una contesa emozionante, con le due compagini che non riuscivano a staccarsi l'una dall'altra. Partita sostanzialmente equilibrata, con la Cirale però sempre col naso avanti e bravissima a tenere botta nel finale, dopo la tripla del pareggio di Forzano che ha portato i suoi sul 52-52. Russo faceva ruotare tutti i suoi atleti, ricevendo da ognuno il contributo alla vittoria finale. Bene Pietro Marzo sul finire, dopo essere stato penalizzato oltremodo nei primi 20 minuti. Un po' meno Alberto Marzo, con appena 1 su 6 dal perimetro, anche se con 7 falli subiti. Ben tre stoppate per Santonocito in difesa, mentre Signorelli, Persana e Lofaro con Arcidiagono, hanno svolto il loro lavoro con diligenza. Moretti porta a casa 17 punti e 6 paloni recuperati, mentre la nota lieta è certamente il giovanissimo Daniel Arena al suo esordio stagionale. 4 punti, ma soprattutto tanta personalità anche nei momenti difficili della partita. Per i biancoverdi locali da citare Provenzano, infortunatosi poi insieme ad Alessandra, con 15 punti con solo 1 su 4 dalla lunetta. Il solito Calò, 10 punti e un ottimo Forzano, 10 punti, ma anche lui deficitario nei liberi con 3 su 6 realizzati. Il prossimo turno vedrà il basket a Cireale, affrontare il basket a Empedocle sul parquet della palestra Cussa alla cittadella universitaria, domenica 3 novembre alle ore 18.